Balla con me, con style, insieme a me, con style Quando la fama arriva, balla con i gnam gnam style Balla con noi, con style, insieme a noi, con style Quando la fama aumenta, balla i gnam gnam style Alza la mano, muovila piano Dai, batti il tempo sulla pancia, insieme a me Sulle ginocchia, le dita scrocchia Tutto pronto, sei sicuro? Abbastanza Attenzione, le sarde sono pronte? Questo l'abbiamo già rivelato Sì, c'è stato qualcuno che ha zecchato in pieno Il primo panino sarà a base di sarde Insende in temperatura il pane e porta in temperatura tutti gli altri ingredienti Quindi se avete dei formaggi, se avete dei salmoni Il fatto di avere il pane caldo vi aiuta anche a portare in temperatura gli altri ingredienti Condita, diciamo, con l'aceto, i pinoni e l'uvata e l'uvetta Poi andiamo ad aggiungere Le nostre salade Insieme a noi con style Dai tutti in fila, pronti per i gnam gnam style Ma a me sembra buono, vuoi cosa dite? Balla con me con style Insieme a me con style Quando la fama arriva, balla con i gnam gnam style Balla con noi con style Insieme a noi con style Quando la fama aumenta, balla i gnam gnam style A me sembra buono, ma a me sembra buono, vuoi cosa dite? Grazie Grazie Grazie